Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Tau Games, io sono sempre Domingo, oggi vi porto Brand in Midlane, i rework di Brand in Midlane. Questa partita l'ho giocata in live e la vado a caricare così con pochi tagli o quasi nessuno, per farvi vedere un po' come l'ho giocato sul canale Twitch domingo-tg. In più ti ricordo di iscriverti al canale per non perdere tutti i miei prossimi video, di attivare la campanellina perché solo l'iscrizione non basta per ricevere le notifiche. In più se ti va di supportare i miei video o quello che faccio in generale su YouTube ti invito a commentare e lasciare like, puoi anche semplicemente commentare dicendo commento per supportare il canale, te ne sarei molto grato. Andiamo a vedere come ho giocato Brand in questa partita, andiamo a maxare la W, la E e la Q, successivamente prendiamo come item o il Liandri o l'Eco di Luden. In questa partita ho deciso di prendere l'Eco di Luden per avere più mana, ma di solito possiamo farci anche il Tormento di Leandri. Queste cose verranno un po' cambiate con la prestagione, visto che in molti item verranno cambiati e verranno inseriti altri oggetti. Come secondo item vado a prendere Scelto Missalo di Rely che è molto forte con Brand perché Brand vuole che i suoi avversari restano più tempo possibili vicini tra di loro per usare la sua Suprema e fare più danno anche con le passive. Quindi Scelto Missalo di Rely, la Zonia fondamentale contro Champion che possono saltarci addosso, visto che Brand è un Champion molto lento e ha sostanzialmente come escape solo il Flash. All'occorrenza quindi Zonia oppure anche il Morello. In questo game ho deciso di prendere l'Eco di Luden, Rely e Zonia come core item. Come rune ho deciso di prendere il ramo di Dominazione e Stregoneria. Dominazione prendiamo Raccolto Oscuro ma ho visto che viene giocato, ultimamente sta venendo giocato di nuovo anche con l'Eletroshock. Andiamo a vedere le abilità di Brand. Fiammata, come funziona? Praticamente la passiva Fiammata va a ustionare gli avversari. Brand con le sue abilità ustiona gli avversari per 4 secondi. Questa passiva si può accumulare fino a 3 volte su un avversario. Alla terza stack questa passiva va a esplodere entro 2 secondi facendo danno ad aria applicando la passiva su nemici vicino al target che abbiamo focussato. Inoltre si può usare anche sui minion d'assedio e sui mostri grandi della giungla. La Q, Fuco Ardente, è uno skillshot ovvero Brand scaglie una palla di fuoco che infligge danni magici e applica Fiammata ovvero la passiva. Ma se Brand colpisce un avversario con Fuco Ardente mentre già ustionato con la passiva Fiammata questo va a bloccare, a stordire l'avversario per un secondo e mezzo. La W, Pilastro di Fiamme, dopo un breve ritardo Brand crea un Pilastro di Fiamme ovvero fa una zona cerchio e dopo qualche secondo esplode. Farà danni magici ai nemici e se l'avversario è colpito da Fiammata ovvero dalla passiva le unità in Fiamme subiscono il 25% di danni in più appunto da Pilastro di Fiamme dalla W. La E con Fraglazione è un'abilità target del kit di Brand solo la E e la Ultimate sono a target poi la W e la Q sono due skillshot. Ma con Fraglazione come funziona? Brand lancia contro i bersagli una potente scarica che si propaga ai nemici vicini infliggendo danni magici. Quindi colpiamo un nemico o un minion questo va a esplodere per una breve distanza colpendo gli avversari appunto vicini. Ma se l'avversario è colpito già da un'altra abilità quindi è sotto diciamo il marchio della passiva Fiammata il range dell'esplosione aumenta, è raddoppiato. Cataclisma di Fuoco è l'abilità che è stata cambiata, adesso Brand quando Ulta l'abilità rimbalza anche su Brand. La Suprema rimbalza 5 volte in totale e fa sempre danno magico a ogni rimbalzo. I rimbalzi danno la priorità a nemico con più cariche di fiammata addosso. Se un avversario è stato già colpito da due abilità di Brand quindi ha due stack di fiammata la Suprema andrà a focussare lui e non un avversario per esempio che è stato colpito da una sola abilità quindi ha una sola stack di fiammata. In più se l'avversario è colpito già bruciato da un'abilità di Brand questo avversario verrà anche rallentato. La Mumu 000 è italiana Mumu, eh? E' come giusto, questo è l'1. E' come giusto, questo è l'1. chi ha ultato? no, potrebbe andare a riuscire le cose, ma ci metto troppo da bra, urta per la farma bra, maestro sei, bra, bra, seguimi, seguimi se fai col bot? eh, proviamo, non faccio niente c'è 0-1, 0-1-5, 62, troppe guarda bot c'è luxe vai, vai no oh, dovevo le shower ports doppio buff, nice sto flash mi ha ripagato comunque è fighissimo il nuovo brand però cala passiva in un act spama sta maestria, lux maestria sei po' no, penso che questo è l'ultimo no, allora che mi faccio? faccio questo leandri in realtà dovevo staccare le 11 e mezzo poi è arrivato a bedulla e mi sono allungato un po' ma a fini sempre così ok, al final qualche game lo facciamo quindi tanto qua ho un tanto Kenciura top versus maestria sei è Antonio purtroppo eh può essere eeeh oh frate andrei stavo giocando a discone, no no, no, no a discone a cosa, la tft seconda scena no no mi sono fatto prendere su ha distrutta ha distrutta ha distrutta shottata è un botte spama pure la maestria aspetta qua vai vai capenda chi? vai capenda chi? dove vado sto chi? no, se vado la muoio cosa vado vado i vado vado Abbiamo la torre. C'è Garen. Facciamo una guato. No, 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 no. No, no, è ingrabbato, è perso. Un evento mori per lei. E' finito il game? No. Tengono troppi cc loro. Io ho chiuso tre item, Jin non ha chiuso manco le scarpe. No, 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 no. Sì, ma noi sfruttiamo il baro. No, 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 no. No, 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 no. Ma non mi fai trappi, capi che? Lux, ma non mi fai trappi. Però ci muore sempre lei. Sciotto. Un terminator che non vuole morire. Sono citazione per pochi. Sto arrivando, boys. Sì. Tupalle, oh. Possibile giocato. Attenzione. Chi c'è ancora il baro? E' finito il baro. Finito. Da prendere blu allora. Invece di, sta 1,7 ecco. Invece di continuare a spammare sul render, sul render, sul render. C'è alla fine basta che mi difendono. Nei teamfight faccio un sacco di danni. Trova se mi trovo a Mumu addosso, lei 1 addosso ogni 3 secondi. No, shieldami, shieldami. C'ha Mumu dietro. Non avete paura, ragazzi. Non avere paura. C'è il baro, vogliamo proprio fare il baro. No, usciamo. No, usciamo. Prendiamo tempo. Dovrebbe essere un ottimo baro, bro. Non, usciamo. Poteva essere. Diciamo. Dovrebbe essere un bel baro. Un minuto. Morello. Non ingaggiate ora che sto beccando Allora, non datemi il tempo di arrivare In team fight No Hanno stunnato Drago Drago, drago, drago Attenzione all'lux Trim Mi sta attendo solo all'ultimate delux E' stato mid Sta arrivando, no, non sta arrivando Ci stiamo facendo il drago Ma questo è quasi il perfezione intelligente Dovemmo prendere controllo del Baron Stiamo uno dietro Le una dietro Attenzione, attenzione Ottio Slow a qualcuno Bravo, bravo Garen, Garen E' morto, garen Oh, ne mi sa andan Mamma mia Molti tutti Qua si fanno il bar No Sto fanno il blu io prima che si fanno il bar Ok, stanno qua Non ci piace Però visione 0 Visione 0 Focus a questa Focus a questa C'ha l'ux dietro Baron Baron, Baron Non è un bar Attenzione all'lux Ce l'ha Ma è morto Giang le nostre è morto Algunu Detta E' morto Per se I Se 我要i E' morto Grazie bisogna fatto e ultimo item faccio il velo della benshee anche se potrei fare il rabato non fa più danno ma meglio il velo della benshee hanno troppi cc drago è l'ultimo per loro possiamo lasciarglielo nessuno ci trasta primo bar allora se si fanno l'ultimo drag gli diamo l'anima amumu dietro amumu dietro morta amumu si se muore samira è vinta morte usciamo e vinciamo non ci sono minion usciamo top stanno arrivando stanno arrivando stanno giovani non ci sono bella maestria sei attenzione usciamo dopo andiamo dopo come fai il tesi val presa vorrei prenderla anche di E è piaciuta sta zona? no perché mi tanco io? non capisco ok vinta a posto e se meno ma dopo non ti danni ok non capisco non capisco